L'hotel Villa Rioddi è un hotel tre stelle a Volterra, ricavato da un'antica dimora che risale al 1400, composto da 13 camere ed un appartamento. Villa Rioddi è un piccolo albergo a gestione familiare. Luca e la mamma Mirella accolgono i clienti con gentilezza, simpatia e calore, offrendo un servizio personalizzato in base alle esigenze dei turisti. Luca sarà capace di darvi ottimi consigli sul territorio di Volterra e dintorni. La mamma Mirella si farà apprezzare per le sue torte e specialità culinarie perché la colazione è uno dei punti di forza dell'hotel. La posizione ottimale dell'hotel a due chilometri dal centro di Volterra e la bella piscina immersa nel verde rendono l'hotel Villa Rioddi una valida soluzione sia per chi ama girare in auto o in moto per la Toscana e visitare le città d'arte toscane. Volterra è vicina a Firenze, Pisa, Siena, San Gimignano e per chi vuole semplicemente rilassarsi nel silenzio della campagna toscana. Il nostro hotel è stato votato come il numero uno di Volterra dai turisti di TripAdvisor.